Ferragosto ad Ascoli Piceno è gourmet, con i sapori marchigiani al centro e con l'oliva l'ascolana che fa da protagonista. Ascoliva Festival è la manifestazione di punta del calendario estivo. È il miglior prodotto gastronomico delle marche, l'oliva ripiena ascolana del Piceno Dopp. I numeri raccontano di un successo incredibile. Arrivano da tutta Italia per assaggiarla e approfittando dei giorni liberi e delle vacanze per arrivare in città. In centro le piazze raccontano la storia enogastronomica della regione Marche, piazza Ringo affatto da cornice. Affiancando infatti gli spazi espositivi a eventi e spettacoli, Ascoli Piceno diventa ancora più attrattiva, arrivando ad un ampio pubblico. Un festival che spazia quindi dalla gastronomia di alta qualità, con la presenza di principali produttori artigianali di oliva ripiena all'ascolana, al dibattito culturale, legato al discorso dell'oliva ripiena nella storia e nella tradizione. Un'edizione che stupisce e si fa apprezzare. È stato il primo cittadino a felicitarsi sui social del successo del Festival dell'oliva all'ascolana, eccellenza del territorio che racconta le marche e i nostri sapori, fino al 21 di agosto.